Buongiorno, mi chiamo Marina, sono bielorussa e vivo a Roma. Da settembre frequento il primo periodo presso CPA3 di Roma, centro provinciale per istruzione degli adulti e sono contenta di presentarvi il mio luogo preferito di Roma. Siamo al Colosseo, un simbolo di Roma, un glorioso monumento all'impero romano. È stato costruito nell'epoca dell'imperatore Flavio e nell'anno 1980 è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il Colosseo fa parte delle sette nuove meraviglie del mondo. Lo vedo ogni giorno. Quando vado al lavoro faccio proprio questa strada. che è diretta dal Circo Massimo all'Arco di Trionfo di Costantino. Sono fortunata nel poter ammirare questo storico anfiteatro così di frequente. Potrei dire che mi sono innamorata di questo posto? Non lo so. Però sicuramente posso dire che mi sono innamorata di Roma grazie a questa piazza che mi sta nel cuore. Mi sono resa conto di questo solo ora facendo questa breve discrizione. Grazie e tanti saluti.